Ciao a tutti, bentornati e benvenuti. Vi rubo qualche minuto, ma veramente proprio qualche minuto, per farvi i miei auguri di buon Natale. Siamo alla vigilia di questo Natale così strano per certi versi e così bello per tanti altri. Io ho la trippa che sta cuocendo da basso e quindi tra poco dovrò andare a controllare. La trippa è un piatto tradizionale dei nostri luoghi, so che comunque anche in tante altre regioni si cucina. È un piatto tradizionale della vigilia che mi piace cucinare perché è un piatto della comunità. Tanti anni fa, quando ero piccolina, quando gli inverni erano freddi, quando c'era la neve, che si andava alla messa di mezzanotte, finita la messa di mezzanotte, dei volontari distribuivano gratuitamente la trippa per tutti, per tutti. Chi andava messa, chi non andava, qualsiasi persona si avvicinasse alla piazza della chiesa, poteva mangiare la trippa oppure arrivava con la sua schiscetta di metallo se la faceva mettere dentro e se la portava a casa, se la mangiava con tranquillità. Quindi penso davvero che sia un piatto bellissimo, che chiama alla condivisione, che richiama alla comunità dove tutti possano partecipare e questo lo faccio ormai da tanti anni, da quando la mia mamma non la fa più, io la faccio in quantità industriali e poi la distribuisco a parenti e ad amici. Quest'anno la messa non sarà a mezzanotte ma sarà alle nove e mezza perché dopo il covid hanno comunque mantenuto quest'orario che francamente mi va anche bene perché a mezzanotte mi addormento e quindi sta cuocendo, aspettiamo che arrivi Pietro, aspettiamo che arrivi mia mamma, mangeremo tutti insieme e poi andremo a messa. Chi va a messa? Gli altri rimarranno a casa. Io volevo farvi i miei auguri più sinceri per questo Natale che sia per tutti un Natale di gioia, un Natale di pace, un Natale di condivisione, un Natale per chi può passato con le persone che ama, con le persone in famiglia, con gli amici, con i compagni, con le compagne, insomma un Natale dove regni l'amore e la pace e la serenità. Sappiamo per tanti versi che tante persone non ci sono più ma li ricordiamo sempre con affetto e vorrei dedicare un pensiero particolare anche a tutte le persone che lavorano il giorno di Natale, chi fa il cameriere, chi ha comunque un'attività che il giorno di Natale è aperta, chi fa il ristoratore, chi lavora in ospedale, chi è di turno come medico, chi fa l'infermiere o l'infermiera, insomma tutte queste persone che durante la giornata di Natale magari non riescono a passarla con le persone a cui vogliono bene ma che comunque sono in mezzo ad altre persone che hanno bisogno di sentire un altro tipo di famiglia, un sorriso, una carezza, una cura insomma, ecco anche a tutte queste persone va il mio augurio di Natale, scusate se mi commuovo ma tante volte ci dimentichiamo che il Natale non è per tutti uguale, chi è in guerra, chi è lontano da casa, chi non riesce ad essere vicino alle persone che ama, insomma io spero davvero che questo Natale sia comunque per tutti noi, per tutto il mondo, un Natale che abbia almeno un po' di serenità. Vi leggo gli auguri che mi sono stati fatti dal mio parroco che però penso possono andare bene per tutti e non solo per le persone che credono e questa cosa mi piace e le voglio condividere con tutti voi che mi seguite con affetto, che mi mandate sempre dei messaggi davvero molto belli, tutte le persone con il quale io quest'anno sono riuscita a costruire delle amicizie vere nonostante la presenza sui social, non nonostante ma comunque non avendo con queste persone un rapporto di amicizia fisico vero, cioè vero no, fisico, perché comunque l'amicizia vera può nascere anche attraverso i social e si creano di quei legami e anche a volte ci si confida, io ho avuto davvero tante confidenze in quest'anno di persone che ho conosciuto e che ringrazio di cuore perché hanno saputo cogliere quello che era il mio intento, cioè quello di condividere quelli che sono i miei hobby, le mie passioni, la mia persona nella sua semplicità e anche magari nella sua goffaggine, però persone che hanno capito che dietro a un video, dietro a così un raccontare di cose che magari possono essere futili banali ma che ci fanno star bene, che ci fanno divertire, hanno saputo cogliere quello che è la mia persona e di questo veramente io ringrazio tutti. Natale non è le luci o i regali, non è le canzoni cantate nei viali, Natale è un abbraccio davanti al camino, la gioia che provi di fronte a un bambino che è nato per tutti senza distinzione di pelle, di genere o di religione. Natale è la pace su tutta la terra, paesi che smettano di fare la guerra, è la gentilezza, un sorriso sincero, aiutare qualcuno, è l'amore vero. Speriamo che tutti, non solo a Natale, vedano gli altri come un dono speciale, che sappiano amare, ridere e perdonare i doni più belli che si possono fare. Ecco io vi ringrazio perché per me quest'anno tante persone sono state un dono, un dono grande che magari non mi meritavo neanche e voi tutti siete stati un grandissimo dono per me, davvero mi avete aiutato tanto in un momento che per me era un momento molto particolare e che magari vi racconterò più avanti, ma mi avete dato una carica, mi avete aiutato, mi avete sostenuto, abbiamo fatto tante risate insieme e quindi davvero il Natale è il giorno in cui ci si scambiano i doni e voi siete stati un grandissimo dono per me. Con queste parole io vi ringrazio e vado a controllare la mia trippa prima che bruci e non ho più trippa per nessuno. Vi abbraccio e ci vediamo dal 27 in avanti, sicuramente ci terremo compagnia in queste lunghe vacanze. Un bacione e vi abbraccio tutti, ricordatevi, regalate sempre un sorriso perché un gesto di gentilezza vale più di mille parole. Ciao!